Il progetto Giada Onlus promuove iniziative di sensibilizzazione dedicate all'infanzia con l'obiettivo di recuperare attraverso il gioco e lo svago la dimensione della normalità e della quotidianità nei piccoli pazienti oncologici. L'associazione si è presentata a Palazzo Lascaris illustrando in particolare l'obiettivo di voler creare un luogo di incontro per i bambini e le famiglie che affrontano la malattia con spazi e strutture adeguati.